Sono 4.305.916 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Il dato, aggiornato alle 17.08 dal report del Governo nazionale, corrisponde al 94,1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, che sono 4.573.498. La nostra regione è attualmente al quarto posto in Italia per capacità vaccinale alle spalle di Lombardia, Marche e Piemonte. 48.818 sono le inoculazioni effettuate nelle ultime 24 ore. Entrando nel dettaglio dei territori, sono quasi 11.700 le dosi somministrate tra lunedì e martedì pomeriggio nei centri vaccinali della ASL Bari. In particolare sono state iniettate 3.801 prime dosi e 7.898 seconde, con 2.093 vaccinazioni eseguite in fila d'Elevante e volumi elevati anche in diversi centri vaccinali del barese. Mola 1.171, Valenzano 744, Capurso 716, Putignano 667, Corato e Alberobello 619, Monopoli 605. Proseguono inoltre le attività nei centri interaziendali dedicate alle imprese produttive, con 534 vaccinazioni eseguite a Molfetta. La campagna vaccinale in tutto il territorio barese ha superato 1.419.000 somministrazioni, di cui 84.000 negli ultimi sette giorni. La copertura vaccinale in questa fase sta crescendo alla velocità di circa un punto percentuale al giorno. Il 75% dei baresi in età vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 53% ha completato il ciclo di immunizzazione con dose doppia o singola. Nella giornata di martedì, nell'ASL BT, sono state somministrate 2.698 dosi di vaccino. In particolare, ad Andria sono stati vaccinati 797 cittadini, a Biceglie 364, a Trani 566 e a Barletta 521. In provincia di Foggia, dall'avvio della campagna vaccinale, sono 638.065 le somministrazioni effettuate. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 62,9% della popolazione, con 378.371 prime dosi somministrate. Ha invece concluso il ciclo vaccinale il 43,1% della popolazione, con 259.694 seconde dosi.